Ciao a tutti, vediamo come possiamo rimuovere un prodotto da una lista su Amazon. Ci basta andare in alto a destra dove abbiamo account e liste. Sul menu a tendina che compare premete sulla lista che volete selezionare. Vi si aprirà la pagina con tutte le liste e quella che avete scelto già selezionata. Guardate dove ci sono i bottoni gialli dei prodotti che ho scritto aggiungi al carrello. Se notate subito sotto c'è il tasto sposta e rimuovi. Voi fate rimuovi e il prodotto viene istantaneamente rimosso senza chiedervi conferma. Questo è quanto, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!